Ora per parlare un attimino di fonico, quindi il fonico cosa deve fare, quali strategie deve adottare per poter essere efficiente su un set? Ci sono alcune cose che sembrano scontate ma non lo sono, io stesso ho fatto tantissimi errori quando ho iniziato a occuparmi di presa diretta perché io ho iniziato a occuparmi di presa diretta per necessità, perché noi siamo una troupe composta da 5-6 persone che però si districano sempre in tanti set, quindi il massimo degli operatori era 1-2 operatori con qualcuno che aiutava l'audio comunque sempre gestito con pulce eccetera, ma c'è stato un set in cui mi sono dovuto rimboccare le maniche ed essere un fonico e quindi da lì anni e anni fa che mi sono un po' interessato il mondo dell'audio e quindi sono riuscito a capire un po' di più come funziona ma questi errori sicuramente li ho fatti anch'io e non dovete ripeterli perché già abbiamo tante difficoltà a livello di posizione, di microfono, di gestione anche queste cose qua non devono essere fatte, quindi attenzione a queste indicazioni come facilmente intuibile questo è solo un estratto di un videocorso molto più ampio che abbiamo pubblicato sulle nostre piattaforme quindi se vedete che vi manca qualche nozione andate a vedervelo perché sicuramente è molto più ampio e molto più interessante torniamo alla spiegazione sicuramente noi dobbiamo posizionare come abbiamo detto il nostro microfono perché dobbiamo seguire la nostra azione quindi questo è fondamentale, non bisogna mai addormentarsi ma essere pronti a seguire l'azione sicuramente non dobbiamo sbattere contro gli oggetti che ci sono, dobbiamo fare attenzione all'ambiente in cui siamo questo è fondamentale perché abbiamo un'asta microfonica dobbiamo cercare di essere veloci ma anche silenziosi quindi noi non siamo come l'operatore che può fare cosa vuole noi dobbiamo essere silenziosi perché abbiamo la fonte microfonica in mano cercare di essere sempre chiaramente fuori dall'inquadratura questo è fondamentale sia noi che il microfono perché altrimenti facciamo buttare tempo, riprese insomma questa è la cosa fondamentale, dobbiamo essere fuori sempre dall'inquadratura e dobbiamo anche indossare abiti che non facciano rumore quindi no catenelle, abiti non rumorosi quindi proprio anche a livello di abrasione dobbiamo cercare degli abiti di indumenti che non siano troppo abrasivi quindi stoffe sintetiche eccetera ci vuole qualcosa che sia non troppo rumoroso quindi non borchi, insomma queste cose qua è importante perché uno non ci pensa ma è una cosa da tenere d'occhio assolutamente importante non dobbiamo indossare gioielli quindi non dobbiamo indossare nulla di troppo rumoroso questo mio braccialetto è tarato ormai per il fonico quindi non vedete che non fa casino però non bisogna averne più di una non bisogna avere nulla che può creare tanti rumori quindi gioielli, anelli, qualcosa che toccando l'asta può dare problemi perché vedete che se io faccio così comunque si sente quindi bisogna fare attenzione anche ai gioielli agli orologi che si indossano bisogna muoversi in maniera tale da creare dei passi morbidi quindi come per il Ronin abbiamo visto con Gianluca c'è una camminata per andare a fare la nostra ripresa Ronin che deve stabilizzare la nostra inquadratura quando invece ne abbiamo l'asta in mano dobbiamo cercare di essere silenziosi quindi fare attenzione a come e dove ci si muove all'interno dello spazio per non creare noi stessi rumore soprattutto in questo caso noi dobbiamo essere sempre preparati quindi quando arriviamo in una location dobbiamo studiare l'ambiente circostante perché ci sono delle situazioni magari dove c'è ghiaia dove ci sono delle grate e lì è utile magari andare a mettere, a inserire dei tappeti che magari possono trovare nella location qualcosa per attutire molto questa cosa addirittura andare scalzi questo è purtroppo successo ma è a volte necessario quindi bisogna fare attenzione anche alle scarpe che si utilizzano anche se sono scarpe morbide io di solito uso le Skechers perché sono comode hanno una suola che non fa troppo rumore non sono scarpe due però già scarpe col tacco quindi stivaletti eccetera fanno rumore e quindi soprattutto in un palchè in una situazione del genere bisogna raccontare che magari bisognerà togliersene e quindi anche qui sapete bene che se si soldano le scarpe magari a casa di un cliente a casa di un set di un cortometraggio con gli odori insomma non siamo avvantaggiati quindi bisogna essere preparati o scarpe morbide oppure lavatevi i piedi o forse tutte e due le cose in ogni caso non divaghiamo un'altra cosa importante è quando si tiene l'audio al fine di rispettare le cose che abbiamo detto adesso noi dobbiamo essere avere sia gli occhi ma utilizzare occhi e orecchi per il nostro posizionamento quindi io devo andare non soltanto è una cosa che verrà naturale all'inizio non soltanto a posizionarmi in maniera tale da guardare la direzione perché altrimenti vado in campo magari perché soprattutto la cosa che si tende a fare all'inizio è quella magari di ascoltare troppo quindi io sono lì ascolto ascolto dove mi posiziono e poi sono in campo sono davanti alla bocca del soggetto perché sono nella posizione corretta ok? cosa che mi succedeva anche a me io all'inizio cercando l'audio a fuoco il più possibile ero lì mi concentravo mi addormentavo andavo giù andavo giù e poi ero in campo quindi bisogna monitorare quindi con gli occhi noi guardiamo se siamo in campo o no con le orecchie sentiamo se siamo a fuoco o meno e questo è fondamentale ok? questo è indispensabile per la nostra riuscita e per la nostra sicurezza anche sul set perché giustamente se entriamo in campo ci massacrano e poi la sicurezza perché noi abbiamo un'asta abbiamo un bastone di magari a volte anche due metri quindi bisogna fare attenzione la cosa fondamentale è quindi diventare un tutt'uno con la nostra asta dobbiamo essere come per il Ronin insomma come per la camera dobbiamo diventare un tutt'uno con l'asta quindi sapere come si muove e lei come risponde ai nostri comandi e ci sono dei trucchi per fare in modo che l'asta sia posizionata e sia sempre pronta e utile e responsive rispetto a quello che accade sul set è quello che vogliamo noi allora la prima cosa sicuramente da fare è stringere tutti i vari blocchi che ci sono perché se non li stringiamo il microfono tenderà a fare questo quindi a girarsi dobbiamo stringere bene tutte vedete ecco in questo caso l'ho allentato vedete se io non lo stringo bene questo dopo un po' si flette e si gira quindi bisogna sicuramente stringerlo in maniera precisa infatti adesso devo li stringere in ogni caso questa è una parte fondamentale perché ci permette di non avere dei posizionamenti sbagliati durante la scena che è assolutamente da evitare dopodiché dobbiamo cercare di non stringere però eccessivamente le nostre sezioni perché se non stringiamo tanto col tempo tendiamo a rovinare la filettatura che c'è all'interno quindi non stringere troppo non sovraforzare le nostre sezioni ma cercare il più possibile di stringere in maniera umana ma senza che si sgancino un'altra cosa importante in merito all'asta è quello di andare a aprirla nella maniera corretta quindi cosa dobbiamo fare perché è importante anche questo se noi andiamo ad aprire l'ultima sezione quindi quella più vicina al microfono è la cosa giusta da fare questo perché perché se noi apriamo direttamente l'ultima abbiamo le altre sezioni che sono lontane da noi e quindi non possiamo fare regolazioni quindi se noi apriamo la prima sezione vedete che noi andiamo ad estendere il nostro microfono ma abbiamo lontano le altre quindi noi siamo così abbiamo ok sì il microfono in mano ma non possiamo fare delle altre regolazioni perché abbiamo gli snodi lontano quindi la cosa da fare è sicuramente aprire per prima la sezione finale quindi questa qui come era prima in maniera tale che se io poi voglio andare ad estenderne altre lo posso fare sembra scontato ma assolutamente non lo è anzi ci è voluto un po' per capirlo poi un'altra cosa importantissima è quella di non andare ad estendere tutta la sezione ok avete presente come sono fatte le sezioni di questi tubi telescopici sono dei tubi di grandezze diverse più grandi più piccole che si vanno a intersecare tra di loro non dobbiamo mai estenderla fino alla fine perché se io le estendo fino alla fine c'è una ridotta porzione dei due tubi che si va a toccare quindi devo sempre cercare di lasciare un tot un 5 cm di questo tubo all'interno dell'altro vedete così perché questo garantisce ovviamente forza se noi siamo estesi di tanto e abbiamo soltanto le due sezioni che si toccano in questo modo chiaramente saranno molto molto più fragili mentre invece se sono in questo modo sarà più resistente quindi non estendetele mai tutte tenete sempre un pochettino tanto l'asta è lunga va bene quindi non c'è problema non c'è problema che non ci è arrivato ok ragazzi il video finisce qui vi ricordo che questo è un estratto di un videocorso molto più ampio che abbiamo pubblicato sull'audio dove trattiamo tantissimi argomenti sulla presa diretta su come essere un vero fonico per i vostri video su youtube quindi se vi è mancata qualche informazione oppure ritenete di voler approfondire ancora di più alcuni argomenti qui sotto trovate il link per trovare il videocorso completo io vi ringrazio tanto ragazzi ricordatevi iscrivetevi al canale mettete un like fateci vedere che questi video sono interessanti e vi piacciono e ci vediamo alla prossima lezione ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti